ciao a tutti da agri merlino bentrovati sul canale oggi vi voglio parlare del colza e vi voglio raccontare quello che ho visto in questi giorni durante la visita di diversi campi che rappresentano bene comunque quella che la situazione della cultura diciamo che ne ho viste di tutti i colori nel senso che mai come quest'anno la cultura diciamo presenta vari tipi di problematiche sviluppi molto diversi tra un campo e l'altro questo in funzione principalmente dall'epoca di semina che è stata molto ritardata in diversi casi rispetto a quella che di solito la cultura richiederebbe e questo sicuramente ha influito appunto sullo sviluppo della cultura prima del freddo e sulla successiva ripresa vegetativa quindi nei prossimi minuti vi faccio vedere un po' quello che ho visto in giro e come vi dico purtroppo nella maggior parte dei casi siamo di fronte a una cultura che avrà potenziali produttivi molto molto bassi diciamo questo non per fortuna in tutti i casi ci sono anche casi di campi nati bene in modo uniforme e diciamo per tempo quindi io ritengo che fino alle semina di fine settembre inizio ottobre dove c'era l'umidità e dove la cultura è germinata in modo adeguato e demersi in modo adeguato ci saranno buone produzioni anzi anche ottime in diversi casi e nel resto diciamo ci sarà una grande variabilità ma non ci si dovrà aspettare grandi cose eccoci a metà marzo è il tempo di andare a dare un'occhiata al colza da vicino qui questo campo come purtroppo potete vedere c'è un'infestazione di cardo esagerata l'azienda in questo caso è intervenuta con glifosate per pulire le porzioni di campo appunto più infestate dal cardo in queste porzioni e appunto l'infestante aveva preso il sopravvento sulla cultura e quindi non ci sarebbe stato altro modo di contenerla ecco al momento non abbiamo diserbi di post emergenza da fare appunto nella fase fino inverno inizio primavera per controllare questi infestante speriamo arrivino diciamo strumenti a breve per il controllo di questo tipo di problema che è molto grave si sta diffondendo in tantissimi campi era uno dei campi che vi avevo fatto vedere quest'autunno questo era stato seminato fine settembre e poi rigato per farlo nascere qui si vede la differenza tra colza appunto seminato in stagione questo qui a sinistra e quello che era nato in un secondo tempo quindi vedete la differenza di sviluppo è importante ovviamente anche più disforme la pianta quella quella nata dopo sta subendo molta più competizione da parte delle infestanti quindi ancora una volta comunque il vantaggio di seminarlo seminarlo presto e soprattutto di un'emergenza uniforme fa una grande differenza questa è la situazione di un campo dove c'è una grande presenza di infestanti in particolar modo graminacee purtroppo non si è non si è potuto intervenire in fine inverno ecco con il graminicida o meglio lo si doveva lo si era programmato prima delle piogge ma non l'azienda non è riuscita e quindi adesso ci troviamo con interfila completamente coperta in alcuni punti colza purtroppo ancora piccolo perché è stato seminato tardi e quindi sta subendo una competizione importante in più con con le con rialzo delle temperature e con le ultime piogge è nato anche molto poligono convolvolo e quindi c'è anche questo problema che non è di facile risoluzione adesso il colza in una fase di di levata quindi anche i pochi di serbi che si possono fare in questa fase diciamo credi ci possono fare contro le foglie larghe credo che siano siano quasi facciano più danno che che beneficio ecco questa è la situazione comune a tante aziende cioè di i campi diciamo che hanno uno sviluppo uno sviluppo buono ma non eccessivo sempre dovuto alle alle semine ritardate ecco qui comunque la cultura è uniforme e quindi per questo motivo comunque avrà anche un buon potenziale produttivo il problema è la grande presenza di meligete in questa fase già appunto anticipata perché il colza deve ancora in questo caso iniziare la levata vera e propria ma abbiamo già la presenza di una popolazione notevole di insetti altre cose anche qui di serbo non è stato fatto in in autunno quindi non è pulita completamente però come dicevo prima non non vale la pena ecco a intervenire contro le foglie larghe adesso la cultura dovrebbe nei prossimi giorni nel giro di dieci quindici giorni coprire completamente la fila iniziare il suo sviluppo verso l'alto questo farà in modo farà sì che sotto poi gli infestanti non abbiano non trovino più la luce non abbiano appunto più le condizioni per crescere il campo prova in questo campo prova che vede di cui vi ho fatto vedere la semina che è stata fatta il primo di settembre qui nel campo prova appunto abbiamo sei ibridi di colza quattro a taglia bassa e due a taglia alta mia la mia sinistra appunto quello taglia alta di qua quello taglia bassa diciamo che ci sono circa 50 60 centimetri di differenza e anche lo sviluppo a livello a livello di appunto di fioritura c'è ormai e siamo più avanti nella fase di levata e inizierà a fiorire quella appunto taglia alta già da settimana prossima mentre quella taglia più bassa sono sono colze che diciamo sono un po più hanno fioriscono proprio in ritardo però poi hanno un periodo di fioritura comunque molto lungo il campo era nato bene anche se non benissimo vi avevo fatto vedere il video della appunto della dell'emergenza ve lo ve l'ho posto in alto in alto destra così appunto valutate com'era la situazione c'era qualche punto dove mancava l'investimento si vede anche adesso qualche diciamo qualche fallanza però tutto sommato direi che il campo è più che buono ecco e quindi mi aspetto una buona produzione qui non è ancora stato concimato purtroppo dovuto alle grandi piogge non sia ancora riusciti a intervenire quindi in questa fase si farà concimazione appena si può in prossimi giorni con solfato ammonico e trattamento insetticida la presenza del meligete è una presenza comunque già numerosa e quindi l'ho consigliato l'azienda di trattare nei prossimi giorni diciamo che si vedono già i danni su appunto sui sui fiori o comunque sugli abbozzi fiorali che sta aprendo fatemi sapere com'è la vostra situazione se avete seminato la coltura e come come avete che interventi avete fatto in questa fase ciao a tutti alla prossima